Cosa vuoi? Vuoi un puntemesso? No. Un rosolio? No. Un rossantico? No. Un anice? No. Ma che Mari rispondi? Che cosa vuoi? Un Mappo Mappo. Ma perché ora Mappo Mappo? Per piacere Mario. Ora che l'ha detto mi è venuto a voglia anche me di Mappo Mappo. Mario, ma io sono in casa a prendere una bottiglia di Mappo Mappo. Ho rischiato la vita prima. Lo so, lo so Mario. Lo sai che io sono innamorato di te da sempre da quando tu hai visto a Milano che mi hai rifatto assaggiare il tuo salame al cioccolato. Ma sì, sono tanti passati quelli lì. Avanti Mario. È sempre mia nonna adesso. Avanti Mario, è nel frigorifero. Ma dai, ma nel frigorifero. Ma ho rischiato la vita. Ma non possiamo fare a meno di Mappo Mappo. Alla piaccia siamo. Almeno ci scaldiamo con io. Ma non posso. Non ci vuoi andare a andare su. È andato. Speriamo bene. Ma no significa Mappo Mappo. Alla piaccia è una shouldra.